Il miglioramento più grande è l'efficienza, efficienza e sicurezza nell'impianto. Efficienza e sicurezza, questi secondo il responsabile ricerca e sviluppo d'Ori Marten Maurizio Zanforlin i punti chiave del progetto di digitalizzazione Lighthouse. Un progetto inserito tra i chiesistori di successo in occasione del Mexperi Parma, la fiera dedicata alla filiera manifatturiera italiana ed identificato dal cluster fabbrica intelligente come uno dei fari dell'innovazione industriale, che si muove lungo linee guida ben precise. Le linee guida principali sono l'innovazione. L'innovazione ci ha spinto a portare tecnologie nuove all'interno di un ambiente duro e crudo, quale è l'acciaieria. Quindi c'è un deciso salto di qualità verso l'innovazione, verso la ricerca e verso lo sviluppo. Il progetto, che anima il tunnel dell'innovazione della filiera emiliana, in programma dal 28 al 30 marzo, è però ancora in una fase iniziale e ci vorranno diversi mesi prima del suo completamento. Il progetto Lighthouse vero e proprio dura circa tre anni e mezzo. Abbiamo un partner tecnologico con cui abbiamo fatto una prima fase che è quasi completamente conclusa, dove ci sono state implementazioni di attrezzature e di impianti. Adesso su queste attrezzature e su questi impianti si comincerà a fare tutto quello che è lo sviluppo e la ricerca industriale. Oggetto di innovazione però non è un singolo reparto, ma l'intero processo siderurgico che viene ripensato ed ottimizzato proprio perché l'acciaieria bresciana possa raggiungere il massimo livello di efficienza e sicurezza. L'innovazione è tutta, diciamo che è trasversale, perché parte dalla portineria e arriva alla portineria. Nel progetto c'è la classificazione del rottame, c'è la pesatura del rottame, la definizione di ricette di carico precise, abbiamo supporti per la classificazione del rottame da parte del classificatore, abbiamo la gestione dei magazzini intelligenti, quindi anche lì con software e hardware di ultima generazione. Ci siamo posti come obiettivo anche la gestione di tutti i parametri ambientali, quindi ottenere un NCA di prodotto e di processo e aiutare, coadiuvare il lavoro degli uomini, dei nostri collaboratori, evitando le situazioni di pericolo, togliendoli dalle condizioni pesanti e gravosi dell'ambiente siderurgico, sostituendoli con macchine, mettendoli a lato però. Non sono macchine che tolgono lavoro all'uomo, ma cambiano il lavoro dell'uomo, lo rendono più sicuro, più preciso e più efficiente.